buona giornata il senso della vita è quello di trovare il vostro dono lo scopo della vita è quello di regalarlo pablo picasso oggi vi voglio donare questa frase per dirvi cercate il vostro senso della vita cercate il vostro dono ma lo scopo principale della vostra vita deve essere quello di donare questo vostro dono di regalare questo vostro dono perché solo così chiunque avrete incontro chiunque vi verrà incontro chiunque incontrerete voi e abbraccerete veramente non vi lascerà mai e anzi vi ricorderà e vi farà pubblicità di questa cosa quindi donate il vostro dono regalate il vostro dono perché i grandi non sbagliano mai figuriamoci poi picasso quindi buona giornata da daniele paci per felicità e pace om shanti shanti buona giornata ciao